buongiorno cari concittadini sono qui a presentare ma lo conoscete già il presidente del circolo sociale marabù il quale ci descriverà un avvenimento che avrà luogo domenica 12 novembre alle 12 30 introdotto con un pranzo un grande pranzo di comunità al circolo marabù perché sono qui a presentare il presidente perché il presidente dovrà quel giorno fare anzi farà perché io lo so già che farà un grande evento di in omaggio al volontariato all'associazionismo e quindi ci saranno una serie di cose diciamo così che si alterneranno dopo il pranzo al marabù quindi io sono qui ad invitarvi prima di lasciare la parola al presidente per domenica 12 novembre alle ore 12 e 30 a questo pranzo al marabù previa prenotazione e per la quale vi spiegherà vi illustrerà i dettagli il presidente del marabù l'ingegner giuliano arduini che qui di fianco a me grazie fausto amico amico fausto io brevemente vi presento il perso amicati il programma perché voglio lasciare un po anche la suspense della giornata sarà un ricco programma in cui alterneremo dei momenti ufficiali di premiazione proprio per la valore vogliamo valorizzare l'operato dei volontari che costituiscono il nervo importante della nostra del nostro circolo come anche della comunità montecchiese infatti abbiamo invitato anche tutte le altre associazioni di montecchio a questa festa quindi ci sarà un momento di premiazione ci saranno un momento di faremo anche una donazione una donazione come nel nostro costume noi tutti gli anni mettiamo a disposizione enti associazioni di montecchio mettiamo a disposizione un certo un certo quantità una certa quantità di risorse intervallati intervallati a questi ci saranno anche dei momenti di espressione artistica ci sarà un momento dedicato a si pari aperto presenteremo il nuovo logo marabù che ci identificherà sempre maggiormente come comunità di montecchio e poi ci sarà la chiusura finale di uno spettacolo teatrale dialettale che per ora per ora lasciamo lasciamo così alla suspense spero che vedrete spero che ci sia una comunità importante che riesca a questa vi invidiamo tutti quanti a partecipare e ad essere volontari allora avete sentito il presidente ha così accennato per sommi capi al programma ricchissimo quindi partirà subito dopo mezzogiorno ma credo che scivolerà fino alla metà pomeriggio io chiedo a tutti coloro che sono curiosi coloro che vogliono partecipare coloro che vogliono collaborare con il centro sociale marabù di essere presenti di telefonare e giuliano dovresti dire come fare ci sono i numeri su un manifesto della festa grande a cui poter telefonare per poter prenotare il posto grazie e buona giornata grazie